Buongiorno a tutti, sono Andrea Bernardini, ho 21 anni e sono il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Monselice. Sono studente universitario presso la Facoltà di Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio all'Università di Padova. Tra i miei trascorsi sono stato volontario della Crociosa Italiana di Monselice e ora mi occupo del settore mini basket presso la società sportiva Monselice Basket. Sono stato molto attivo nella mia parrocchia al Carmine in passato ed ora sono membro eletto del consiglio pastorale parrocchiale. Come candidato sindaco sono anche il portavoce di un gruppo meraviglioso di cittadini che da oltre un anno settimanalmente si incontrano per discutere insieme dei problemi di Monselice e delle possibili soluzioni per risolverli. Tutti i cittadini che compongono il gruppo del Movimento 5 Stelle di Monselice sono incensurati e senza alcun carico pendente. Sono tutti alla prima esperienza politica. Per noi infatti la politica non è un mestiere o un'occasione personale ma è un servizio civile che vogliamo dare alla nostra città per il futuro delle generazioni che verranno. Da diversi anni seguo le vicende della politica locale partecipando a tutti i consigli comunali di quest'ultima amministrazione. Ora ho deciso di partecipare in prima persona assieme a un gruppo numeroso di cittadini per provare a dare un cambiamento a questa Monselice.